La pesca in Sicilia ha bisogno di rimodernarsi, ma rimodernarsi significa che il pescatore deve finalmente capire di essere imprenditore, oltre a curare l'attività del prelievo del pesce, dare un valore aggiunto a questo, valorizzare al massimo ciò che preleva dal mare. E una di queste prospettive, noi l'abbiamo intrapreso, queste attività, inaugurando nel 2007 il primo IT-turismo della regione siciliana, in un momento in cui addirittura non esisteva la normativa regionale, non si sono stati i pionieri, partendo dall'attività di somministrazione di prodotti, in questo caso soprattutto prodotti del mare, del mare di Trapani, nel nostro caso, e quindi anche dell'ambito provinciale. Noi abbiamo questa grandissima fortuna di avere tre grandi marinerie, Trapani, Marsale e Mazzale, e quindi la possibilità di avere più tipologie di prodotto ittico, consentito dai fondali che sono di diversa natura. Poi attività anche di degustazione di prodotti, attività di trasformazione, prodotti tipici. Quindi anche questi piccoli accorgimenti all'interno di un'attività lavorativa, di un'attività imprenditoriale, sono importanti. Nell'ottica sempre di questo gioco di economia blu, di economia sostenibile, quindi di non solo sfruttamento delle risorse, ma sfruttamento limitato e consapevole. Però questo posso dire che ha dato gli ottimi risultati, perché la nostra cooperativa nasce nel 2007 con tre soci, oggi siamo circa 20. Ci vuole che siamo l'unica figura che riesce a coordinarle tutte, perché attività di pesca a mare, l'attività a terra di somministrazione, quella di trasformazione, anche l'attività didattica. Noi andiamo spesso negli studi scolastici a fare formazione ai ragazzi. L'attività principe e base, lo dico sempre, prima bisogna conoscere il pesce, da come si chiama, successivamente si inizia a lavorare. Il punto di partenza è la barca, l'imbarcazione, la licenza di pesca e dell'imbeditore ittivo. A questo poi si collega un'altra attività, un'altra attività legata all'ittiturismo è la pescaturismo, cioè attività legata al mondo dei pescatori a mare. Cioè le persone imbarcano con noi e vivono una giornata da pescatori. Però quello che intendiamo noi per pescaturismo è un pescaturismo, diciamo, diverso da quella che in genere si va a promuovere, perché si sale sul peschereggio e si mettono i vestiti adeguati, si va a pescare, si va a pescare con noi. Quindi non è un giro dell'isola, non si va in mare a fare il bagno. Consentiremo anche ai nostri ospiti di vivere una giornata con noi da pescatori professionisti. Penso che attraverso lo sviluppo e l'utilizzo dei fondi europei legati anche alla sostenibilità e anche all'economia blu si possa innanzitutto credere nella possibilità di fare qualcosa in Sicilia e ci sono le potenzialità per poterle fare. Attraverso l'economia blu e secondo me è il futuro, il futuro del nostro settore, io parlo in questo caso del nostro specifico settore della pesca, ma anche di altri. Quindi bisogna crederci, bisogna soprattutto avere delle idee importanti, innovative e soprattutto non tirarsi mai indietro.